Ci siamo occupati in passato di bambini selvaggi, bambini che erano stati abbandonati ed erano stati salvati ed in qualche modo allevati dagli animali. Abbiamo scoperto che esistono davvero centinaia di casi di questi bambini e che in alcuni di questi nessun amico peloso a quattro zamper ha potuto intervenire mitigando il dolore causato da quello che possiamo definire solo come pazia umana. E' il caso per esempio di Susan Wiley, nata ad Arcadia in California nel 1957. Sua madre Dorothy era quasi cieca già prima di sposarsi con un uomo più grande di lei di vent'anni, Clark Wiley, una persona con gravi disturbi di gestione della rabbia e paranoico. Clark non voleva figli ma durante il matrimonio ne nacque ero quattro, due morirono piccolissimi a causa della mancanza di cure, poiché il padre non sopportava di sentirli piangere e li teneva in garage al freddo per la maggior parte del tempo. Il terzo figlio fu preso dalla nonna paterna nei primi anni di vita e questo di certo gli permise di sopravvivere. L'ultima Susan non fu abbastanza fortunata ad essere portata via dalla nonna che era ormai eccessivamente anziana e ne fu abbastanza debole per morire. Quando aveva circa un anno e mezzo il padre si convince che la figlia fosse ritardata e la chiusa in una stanzetta dove nessuno poteva entrare, con foglie di alluminio alle finestre che non lasciavano entrare il sole ed attutivano notevolmente i rumori esterni. Susan crebbe così, vedendo suo padre una volta al giorno quando le era concesso mangiare qualcosa e passando il resto della giornata come poteva. Dopo anni, quando sua madre si decise finalmente a lasciare il marito, prese Susan e si diresse agli sportelli dell'assistenza sociale per chiedere aiuto per lei e sua figlia. L'assistente sociale che vide Susan per la prima volta si disse convinta di avere di fronte una bambina di 7-8 anni circa, probabilmente autistica. In realtà era il 1970, quindi Susan aveva ormai 13 anni, sebbene la malnutrizione la facesse sembrare molto più piccola. L'assistente, scioccata, allertò immediatamente le autorità e i coniugi Wiley furono arrestati. La madre fu rilasciata poco dopo, mentre il padre si suicidò per non dover comparire davanti al giudice. Lasciò un biglietto su cui scrisse, il mondo non capirà mai. Il fratello John, che era andato via di casa da tempo, riferì in un'intervista che aveva capito che in quella casa qualcosa non andava, ma era davvero convinto che sua sorella fosse malata, perché il padre non gli aveva mai permesso di vederla o di passare del tempo con lei e lui, sentendola lallare come una bambina piccola, non aveva mai dubitato dalle parole del padre circa il grave ritardo mentale della sorella. La psicologa Susan Curtis, che per prima ed in larga parte si è occupata del caso di Jeannie, come venne soprannominata la piccola Susan, disse che l'unico vero problema della piccola era stato il contesto familiare. Susan non imparò mai a parlare, se non poche parole, ma imparò il linguaggio dei segni. Grazie al team di specialisti che la seguirono nei cinque anni successivi, le sue condizioni migliorarono moltissimo, ma nessuno poteva ormai ridarle indietro gli anni in cui era stata sola e segregata. Era chiaro che non avrebbe mai avuto una vita normale e che il ritardo cognitivo causato dalla mancanza di cure non si sarebbe mai colmato. I problemi di relazione a volte ritornavano fuori e quando ormai Maggiorene ritornò a casa dalla madre, questa non riuscì ad occuparsene e dovette rivolgersi nuovamente all'assistenza sociale. Negli anni l'attenzione mediatica intorno al suo caso si spense, tanto che non si sa precisamente dove sia adesso, anche se voci non ufficiali riferiscono che vive in un istituto in California per persone con problemi mentali. Il suo caso è quello di un'incredibile ingiustizia, una vita distrutta per colpa della follia di un uomo che invece avrebbe dovuto occuparsi di lei e dalla debolezza di una donna che avrebbe invece dovuto proteggerla. Diteci nei commenti che cosa ne pensate e fateci sapere con un like se il nostro lavoro vi è piaciuto. Iscrivetevi al nostro canale e seguiteci sui social network, trovate tutti i link qui sotto nella descrizione.